L'associazione Work in Progress, dopo la felice esperienza alla Darsena Borghese, dove ha animato le serate del mese di giugno, per il mese di luglio torna nella sua collocazione storica, la Rocca Malatestiana, ma non all'interno del cortile come gli anni passati, all'esterno, nei giardini che furono già in passato teatro di eventi e feste. L'idea di animare diversi spazi della città è ben vista dall'amministrazione comunale, come ha sottolineato l'assessore al turismo marcheggiani nel definire ben riuscito l'esperimento alla Darsena, esempio di buona convivenza tra chi frequenta gli eventi dell'associazione con le esigenze dei residenti. Ma la pendolarità, si sta già pensando alla location di agosto non ancora individuata, non è la sola novità di quest'estate, ma anche la formula, dato che quello presentato dall'associazione è il Work in Progress Festival 2016. È bella proprio questa sperimentazione che è stata messa in piedi, ossia aprire il ponte tra il Centro Storico e il Lido che ha suscitato tanta curiosità da parte dei passanti, tanto interesse dalle iniziative che sono state messe in piedi e quest'anno è ancora più particolare proprio perché viene proposto come festival, festival di Work in Progress, messo su da questi ragazzi operosi con tanta voglia di fare per questa città, hanno messo in piedi questa cosa alla Darsena Borghese per poi spostarsi davanti alla Rocca, quindi anche sperimentare di nuovo quello che era i giardini davanti alla Rocca Malatestiana, dando comunque sia la possibilità di visitare la Rocca Malatestiana ai turisti e poi per il mese di agosto una location ancora da trovare, insomma da decidere insieme a un programma ricco e un programma che poi, la particolarità di quest'anno è che va in collaborazione con quelle che sono le iniziative esistenti, il passaggio, il jazz, quindi è qualcosa che entra ufficialmente nella programmazione estiva di questa città, nella programmazione turistica, nella strategia turistica di questa città. Un programma, come di consueto, spalmato su tutti i giorni della settimana e denso di appuntamenti. Lunedì cinema, il martedì i laboratori e le attività per i bambini, le serate musicali con i gruppi che si esibiranno all'aperto il mercoledì ed il venerdì e poi giovedì e sabato saranno variate di volta in volta. Work in progress appunto.